Il Premier Giuseppe Conti ha affermato un nuovo decreto con le misure anti-Covid, a fine di contenere i numerosi contagi che giorno dopo giorno stanno aumentando. Tra le principali novità, il divieto di feste private al chiuso o all'aperto, le raccomandazioni di evitare di ricevere in casa più di sei persone con cui non si conviva, le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sarà in vigore per i prossimi 30 giorni. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle ore 24, ma dalle ore 21 è vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti, solo i locali con tavolo a chiuso o all'aperto. Torna nuovamente il divieto delle gite scolastiche, stoppa a calcetto e ad altri sport di contatto a livello amatoriale. Per le mascherine, l'articolo 1 del decreto Conti stabilisce che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private. In tutti quei luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Per le competizioni sportive è consentita la presenza del pubblico su stadi e palazzetti con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla sua capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita anche la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. In merito ai provvedimenti sul lavoro, le attività professionali, il governo raccomanda che siano attuate mediante modalità di lavoro agile, cosiddetto smart work, ove possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Per i cinema e i treati il limite è di concerto come restano i 1.000 spettatori all'aperto. In un primo momento si era parlato anche di un taglio di questi settori, ma è stato il Ministro della Cultura Franceschini, dopo i numerosi appelli del mondo della spettacola, a fugare i dubbi. Non esiste il rischio. Saranno confermati i limiti con la conferma delle possibilità delle regioni di derogare e le deroghe concesse con ordinanze regionali verranno fatte salve proprio con il decreto PCM firmato da Conte.